www.redigio.it e la storia continua Gli attributi di Yahweh è vegano ma anche non portava rancore era anche leale e paterno vegano così disse nel Levitico 3.2 di questo sacrificio di comunione offrirà come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi è sopra i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherà al di sopra dei reni i figli di Aronne lo bruceranno sull'altare sopra l'olocausto posto sulla legna che è sul fuoco è un sacrificio consumato dal fuoco profumo soave per il Signore Levitico 3.2 La donna più delicata e raffinata tra voi guarderà con un occhio maligno il marito che riposa nel suo seno suo figlio e sua figlia per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che metterà al mondo perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto Deuteronomio 28.56 Prenderai poi uno degli arieti quelli senza difetti ne raccoglierai sangue e lo spargerai intorno all'altare poi farai a pezzi l'ariete ne laverai le viscere e le zampe e le disporrai sui quarti e sulla testa Allora brucerai in soave odore sull'altare tutta la riete È un olocausto in onore di Yahweh un profumo gradito un'offerta consumata dal fuoco per Yahweh Esodo 29.19 Laverà con l'acqua le interiore le zampe poi il sacerdote brucerà il tutto sull'altare come olocausto sacrificio consumato dal fuoco profumo soave per Yahweh Levitico 1.9 Così Yahweh è diventato vegano Yahweh non porta rancore Se non obbedirai alla voce del Signore Egli lancerà contro di te la maledizione la costernazione e la minaccia in ogni lavoro in cui metterai mano finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni malvagie per avermi abbandonato Leuteronomio 28.15.20 Ti farà attaccare la peste Ti colpirà con la consunzione con la febbre con l'infiammazione con l'arsura con la siccità il carbonchio e la ruggine che ti perseguitiranno finché tu non sia perito Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche e nessuno li scaccerà Deuteronomio 28.22 Il Signore ti colpirà con le ulcere di Egitto con buboni, scabbia e prurigine da cui non potrai guarire Ti colpirà di delirio di cecità e di pazzia e andrai brancolando in pieno giorno come il cielo brancola nel buio Deuteronomio 28.27 Non riuscirai nelle tue imprese Sarai ogni giorno oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà Deuteronomio 28.20.29 Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge scritte in questo libro la Bibbia Se non temi questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio allora il Signore colpirà te e i tuoi discendenti con fragelli prodigiosi fragelli grandi e durature malattie maligne e ostinate Deuteronomio 28.58 Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle Gal 3.10 Yahweh è leale Se uno prende in moglie la figlia e la madre è un delitto Si bruceranno con il fuoco lui ed esse perché non ci sia fra di voi tale delitto Levitico 20.14 Nelle città di questi popoli che Yahweh ti dà come eredità non conserverai la vita nulla che respiri Deuteronomio 20.16 Mentre essi fuggivano davanti a Israele Yahweh lanciò dal cielo su di essi come grosse pietre fino ad Azzeca e molti morirono Coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti ne uccisero gli israeliti con la spada Giosuè 10.11 Ed era paterno Beato che afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra Sal 137.9 Io Yahweh nella mia gelosia non ho sterminato gli israeliti Numero 25.9 E se nonostante tutto questo non volete darmi ascolto con la vostra condotta mi resisterete Anch'io vi resisterò con furore e vi castigerò sette volte di più per i vostri peccati Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie Levitico 26 27 29 Andate e passate a fil di spada agli abitanti di Iabes di Galad comprese le donne e i bambini www.redigio.it www.redigio.it E la storia continua www.redigio.it www.redigio.it Grazie a tutti.